Guida sicura, innanzitutto senza alcol e poi con i trucchi per controllare meglio l'auto anche in condizioni difficoltose. E questo è lo scopo della giornata promossa alla piccola da ACI in collaborazione con l'autoscuola Centauro e nel comando di polizia locale di DECO. Oggi facciamo una duplice iniziativa, da una parte facciamo vedere ai ragazzi i rischi che si hanno con la guida sul bagnato, quindi quando c'è poca aderenza e quindi tutte le precauzioni che bisogna prendere in questi casi. Dall'altra poi facciamo vedere quali sono gli effetti visivi di uno stato alcolemico di 0,5 oppure 1. Questo per dimostrare che è sempre bene quando si guida non aver bevuto. Noi insieme anche alla polizia locale da ottobre andremo in tutti gli istituti superiori a proporre questa campagna, proprio perché riteniamo che poi sono i giovani, soprattutto da 18-19 anni, quelli maggiormente da sensibilizzare. Sono incontri importanti questi organizzati dall'ACI con la collaborazione delle autoscuole, sicuramente perché riescono a concretizzare un rapporto di amicizia, che è quello che sicuramente deve intercorrere tra le forze di polizia e i ragazzi che sono la guida dei veicoli o dei ciclomotori o dei motocicli. Sicuramente sono incontri importanti, come dicevo io, perché possono toccare con mano quelle che sono le sensazioni di guida avendo assunto delle sostanze alcoliche. È una pura simulazione con degli occhiali che ovviamente creano delle difficoltà durante il movimento. C'è l'abitudine soprattutto per chi ha la patente da qualche anno di tenere le mani a posizione 10-10, sistema che sicuramente magari andava bene qualche anno fa quando i nostri veicoli non avevano a disposizione idroguida servosterzo appunto per la necessità di dare più forza sul volante. Il consiglio qual è? Abbassare le mani nella posizione 9 in quarto e utilizzare il volante in questo modo, cioè staccando, girando a destra la mano destra e riportandola sempre nella stessa posizione. Grazie a tutti.